Il gran giorno è arrivato, quasi una trentina i ragazzi del terzo, quarto e quinto anno delle superiori ritrovatisi questa mattina presso Cascina Moreni per cimentarsi in uno dei tre temi proposti per la seconda edizione del premio letterario Fabio Moreni. I candidati hanno potuto scegliere tra tre titoli, tutti legati alla figura, all'esempio i valori espressi con la propria testimonianza da Fabio Moreni, il volontario cremonese ucciso mentre portava aiuti umanitari il 29 maggio 1993 nella ex Yugoslavia, l'epoca dilaniata dalla guerra. Per gli elaborati è stato concesso un tempo massimo di sei ore, nei prossimi giorni verranno valutati da un'apposita commissione. Per i primi tre classificati vengono messi a disposizione premi rispettivamente i 250, i 150 e i 100 euro, mentre a ciascuna delle loro scuole di appartenenza verrà assegnato anche un buono spesa da 100 euro per l'acquisto di materiale didattico. Ai primi dieci classificati verrà rilasciato inoltre un diploma di merito. Quest'anno il premio Moreni triplica però, sono state infatti previste altre due modalità di partecipazione, quella del videoclip e quella per le scuole medie del bozzetto di un'immagine, da utilizzare poi come copertina frontespizio della seconda antologia. Entrambe queste prove vertono sul tema del volontariato. La cerimonia di premiazione è prevista per il 29 maggio prossimo, 24esimo anniversario della morte di Fabio Moreni presso la cascina, sede della fondazione a lui intitolata.